Vi ringrazio davvero per l'invito di oggi. Non sono qui per prendere applausi, non sono qui per cercare consensi. Politica per chi? Politica per cosa? Politica è partecipazione e coinvolgimento dal basso. Ed è fatta proprio per essere la cassa di risonanza dei più deboli e non delle prepotenti lobby. I partiti tradizionali non potranno mai fare gli interessi dei cittadini, perché saranno sempre prigionieri di sistemi di consenso e di potere, da cui non sanno o non vogliono slegarsi. Nessuno di noi è un politico di professione e nessuno di noi resterà in politica tanto a lungo da diventarlo. Io da ingegnere ho lasciato il lavoro per mettermi a servizio dei cittadini. Molti di voi sono entrati in politica per migliorare il proprio lavoro. Essere del Movimento 5 Stelle significa essere coerente, trasparente, libero ed onesto. Onestà, onestà e verità, al di là di scelte scomode e compromessi con il potere. Ed è proprio oggi come io sono qui, onestamente, per denunciare come Comunione Liberazione, la più potente delle lobby italiane, abbia trasformato l'esperienza spirituale e morale in un paravento di interessi personali, finalizzati sempre e comunque a denaro e potere. Non ho ancora finito, mi avete chiesto, sono qua per dire la verità. Lasciate parlare, ascoltiamo. La politica deve essere laica perché deve fare il bene comune. Non esiste una politica cristiana, ma esiste un cristiano che fa politica. Il Movimento 5 Stelle si indigna. Il Movimento 5 Stelle si indigna che si possa strumentalizzare in questo modo tanta brava gente e credenti cattolici. Negli anni avete generato un potere politico capace di influenzare sanità, scuole private cattoliche, università, appalti, sempre dalla parte dei potenti, sempre dalla parte di chi comanda e sempre in nome di Dio. Ed è dal Vangelo di Luca che dice non potete servire Dio e il denaro. Avete applaudito negli anni il prescritto per associazione mafiosa, pace all'anima sua, Giulio Andreotti. Non credo perché andasse in chiesa ogni mattina, ma perché egli rappresentava una visione politica assolutamente in linea con la vostra. L'inciuccio a tutti i costi, sempre e comunque, pur di allargare la propria cerca di amici o di alleati che un giorno gli sarebbero potuti tornare utili. Dentro e fuori dalle stanze della politica. Il vero maestro dell'arte del compromesso. Mai un sì, mai un no. Sempre dipende. Dopo il giugno nazionale avete osannato il suo rampollo Silvio. Anche lui condannato per frode fiscale, falso in bilancio, a propazione in debita, per non parlare del suo entourage, della vita non proprio secondo i valori cattolici che faceva da Palazzo a Grazioli alle sue ville in Sardegna. E sulla scia di Berlusconi avete steso tappeti rossi per il celeste, non certo, penso per il colore delle giacche. Formigoni, finito sotto processo per corruzioni per tangenti multimilionari sulla salità lombarda, che a suon di vacanze pagate da lobbisti senza scrupoli si ritrova ora indagato con l'accusa di aver distribuito a palti a destra manca agli amici della casta, che ma che forse si potrebbe più giustamente chiamare Cosca. Caduta in disgrazia Formigoni vi siete girati verso il governo dell'Inciucio, prima Letta, poi Renzi, uguali perché sostenuti dalla stessa maggioranza. La vostra vera vittoria elettorale con due ministri, il ministro Mauro, il ministro della guerra, il ministro Lupi, quello della cementificazione. Dal primo la spinta degli armamenti a Finmeccanica era garantita e Finmeccanica, uno dei vostri sponsor, la ringrazio. Dal secondo avete la certezza dello sblocco degli appalti. Per gli associati di compagnia delle opere. Il vostro braccio armato è composto da 35.000 aziende e professionisti per un giro di affari di 70 miliardi di euro, pronte ad aiutarsi tra loro. Scambi privilegiati, credito facilitato, distribuzione di appalti pubblici. Secondo il motto «Io do una mano a te, tu dai una mano a me» e insieme li mettiamo nella tasca degli italiani. Ora che avete perso anche questi due ministri, Matteo Renzi, accortosi che i voi scouts sono troppo giovani per votare e che non ha più il consenso che aveva l'anno scorso, vieni qui a ricevere la vostra benedizione, baciando pantofole ed anelli. Il Presidente imbonitore e immeditore di speranze, quelle speranze che ormai sono state disattese, tanto da portare il 51% degli italiani a non fidarsi più della politica. Ma questi nomi non sono altro che la punta dell'iceberg. esiste anche un sottobosco di persone, di comunione e liberazione, che di cattolico non hanno nulla, tanto meno di senso civico. E non sorprende più oramai come tra voi si possa trovare Don Mauro Indoli, detto Don Mercedes, per il suo stile di vita non propriamente francescano e una forte passione per i minorenni, oppure come il vostro nome possa finire legato agli scandali di mafia capitale tramite la cooperativa bianca alla Cascina. Siete l'immagine di una chiesa privata, che ogni anno forte del suo bacino di voti si ritrova qui a parlare di valori cristiani e dell'amicizia, ma nesce rinnovata negli affari. E lo dimostrano anche i vostri sponsor, che rimangono sempre gli stessi ogni anno, tra big privati, regioni partecipate dello Stato, suoi grossi concessionari ed imprese della galassia di compagnia delle opere. Ne cito alcuni, Finmeccanica, l'azienda dell'ex Presidente Orsi vicino a CL è arrestato. Intesa San Paolo, una delle banche più aiutate dal decreto IMU-Banch'Italia, una banca che ama la guerra investendo milioni in armi. Eni, costruisce danni sulla corruzione internazionale, la politica estera di tutti i governi che si sono succeduti, di destra, di sinistra, di centro. Nestlé, una multinazionale che ha causato disastri e drammi sociali in tutto il mondo, dalle infrazioni legate alla commercializzazione del latte materno, al cibo contaminato venduto in Venezuela, all'uso non dichiarato di prodotti transgenici, fino alle denunce per schiavitù e manodopera milorile. L'ottomatica, in un Paese dove la malattia del gioco d'azzardo è considerata una delle patologie emergenti a causa della crisi, direi che ringrazia per i condoni fiscali dati da questo Governo. Per noi, signori, la politica è un'altra cosa. Un politico deve essere onesto e deve avere il coraggio di dire la verità, il coraggio di dire sì, il coraggio di dire no, indipendentemente da quali siano i propri tornaconti personali. Ho iniziato a fare politica perché ho capito che finché ci sono sistemi come questi, come il vostro. I nostri talenti, i nostri veri talenti, guadagneranno un decimo di una velina o un centesimo di un calciatore se non si ammanicheranno con le persone giuste. Io, signori, non ci sto e sono venuto qui in un terreno scomodo per me a dirvele e a farvi qualche domanda. Cos'è Comunione e Liberazione? Cosa rappresenta per la politica italiana? Perché ogni anno, Ministri, il Presidente del Consiglio sentono la necessità di chiedere la benedizione, venendo in pellegrinaggio a Rimini, come i re facevano con i papi? Quando la Chiesa caccerà i mercanti dal Tempio? Il Movimento 5 Stelle non ha bisogno di benedizioni, ma solo di risposte. Grazie. Vi ringrazio davvero per l'invito di oggi. Non sono qui per prendere applausi, non sono qui per cercare consensi. Politica per chi? Politica per cosa? Per il Movimento 5 Stelle la politica è partecipazione e coinvolgimento dal basso. Ed è fatta proprio per essere la cassa di risonanza dei più deboli e non delle prepotenti lobby. E non è un caso che il Movimento 5 Stelle sia nato il 4 ottobre, il giorno di San Francesco. E non è un caso la marcia di qualche mese fa a Sisi Perugia per promuovere il reddito di cittadinanza. Uno stipendio minimo per 10 milioni di italiani che vivono ancora al di sotto della soglia di povertà. Il cambio di formazione non è un sussidio, non è una forma di assistenzialismo, ma è uno strumento per creare occupazione, per restituire la dignità a chi il lavoro è stato tolto oppure a chi l'ha perso. Allo stesso modo abbiamo creato un fondo di 10 milioni di euro, tagliandoci i nostri stipendi per aiutare le aziende in difficoltà. E prossimamente lo faremo anche per aiutare le famiglie in difficoltà. Gli italiani non vogliono i finanziamenti ai partiti. Quei soldi basta non prenderli, senza aspettare leggi, senza aspettare lungaggini burocratiche. Noi non abbiamo percepito 42 milioni di euro di rimborsi elettorali. Tanto in campagna elettorale avevamo detto, tanto noi, appena arrivati in Parlamento, abbiamo fatto. Noi siamo coerenti e lo siamo perché noi ci crediamo. E ci riusciamo, senza scendere a patti concorrotti, senza stringere alleanze anomale, senza intascarci soldi extra. Fare politica dal basso significa fare la politica al servizio del cittadino, anche a costo di perdere consensi o andare contro i grandi interessi di pochi. Nei comuni dove governiamo i sindaci fanno scegliere dove destinare parte delle risorse pubbliche ai cittadini e non agli elettori. E permettetemi, la differenza è sostanziale. La nostra politica è realizzabile solo da chi è veramente libero, libero da interessi, da voti, di voglia di potere, da finanziamenti. Ed è per questo che il Movimento 5 Stelle non crede ai politici che passano allegramente da posti come banche, enti, fondazioni, casse e quant'altro. I partiti tradizionali non potranno mai fare gli interessi dei cittadini, perché saranno sempre prigionieri di sistemi di consenso e di potere, da cui non sanno o non vogliono slegarsi. Nessuno di noi è un politico di professione e nessuno di noi resterà in politica tanto a lungo da diventarlo. Io da ingegnere ho lasciato il lavoro per mettermi a servizio dei cittadini. Molti di voi sono entrati in politica per migliorare il proprio lavoro. Essere del Movimento 5 Stelle significa essere coerente, trasparente, libero ed onesto. Onestà, onestà e verità, al di là di scelte scomode e compromessi con il potere. Ed è proprio oggi, come io sono qui, onestamente, per denunciare come Comunione e Liberazione la più potente delle lobby italiane, abbia trasformato l'esperienza spirituale e morale in un paravento di interessi personali, finalizzati sempre e comunque a denaro e potere. Non ho ancora finito, mi avete chiesto, sono qua per dire la verità. Lasciate parlare. La politica deve essere laica, perché deve fare il bene comune. Non esiste una politica cristiana, ma esiste un cristiano che fa politica. Il Movimento 5 Stelle si indigna. Il Movimento 5 Stelle si indigna che si possa strumentalizzare in questo modo tanta brava gente e credenti cattolici. Negli anni avete generato un potere politico capace di influenzare sanità, scuole private cattoliche, università, appalti, sempre dalla parte dei potenti, sempre dalla parte di chi comanda e sempre in nome di Dio. Ed è dal Vangelo di Luca che dice non potete servire Dio e il denaro. Avete applaudito negli anni il prescritto per associazione mafiosa Pace all'anima sua Giulio Andreotti. Non credo perché andasse in chiesa ogni mattina, ma perché egli rappresentava una visione politica assolutamente in linea con la vostra. L'inciuccio a tutti i costi, sempre e comunque, pur di allargare la propria cerca di amici o di alleati che un giorno gli sarebbero potuti tornare utili. Dentro e fuori dalle stanze della politica. Il vero maestro dell'arte del compromesso. Mai un sì, mai un no, sempre dipende. Dopo il giugno nazionale avete osannato il suo rampollo Silvio. Anche lui, condannato per frode fiscali, falso in bilancio, a propazione in debita, per non parlare del suo entourage, della vita non proprio secondo i valori cattolici che faceva da Palazzo a Grazioli alle sue ville in Sardegna. E sulla scia di Berlusconi avete steso tappeti rossi per il celeste, non certo, penso, per il colore delle giacche. Formigoni, finito sotto processo per corruzioni per tangenti multimilionari sulla salità lombarda, che a suon di vacanze pagate da lobbisti senza scrupoli, si ritrova ora indagato con l'accusa di aver distribuito appalti a destra manca agli amici della casta, ma che forse si potrebbe più giustamente chiamare cosca. Caduta in disgrazia a Formigoni vi siete girati verso il governo dell'Inciucio, prima Letta, poi Renzi, uguali perché sostenuti dalla stessa maggioranza. La vostra vera vittoria elettorale con due ministri, il ministro Mauro, il ministro della guerra, il ministro Lupi, quello della cementificazione. Dal primo la spinta degli armamenti a Finmeccanica era garantita e Finmeccanica, uno dei vostri sponsor, la ringrazio. Dal secondo avete la certezza dello sblocco degli appalti per gli associati di compagnie delle opere. Il vostro braccio armato è composto da 35.000 aziende e professionisti per un giro di affari di 70 miliardi di euro, pronti ad aiutarsi tra loro. Scambi privilegiati, credito facilitato, distribuzione di appalti pubblici. Secondo il motto «Io do una mano a te, tu dai una mano a me» e insieme li mettiamo nella tasca degli italiani. Ora che avete perso anche questi due ministri, Matteo Renzi, accortosi che i voi scouts sono troppo giovani per votare e che non ha più il consenso che aveva l'anno scorso, viene qui a ricevere la vostra benedizione, baciando pantofole ed anelli. Il Presidente imbonitore e immeditore di speranze, quelle speranze che ormai sono state disattese, tanto da portare il 51% degli italiani a non fidarsi più della politica. Ma questi nomi non sono altro che la punta dell'iceberg. esiste anche un sottobosco di persone, di comunione e liberazione, che di cattolico non hanno nulla, tanto meno di senso civico. E non sorprende più, oramai, come tra voi si possa trovare Don Mauro Inzoli, detto Don Mercedes, per il suo stile di vita non propriamente francescano e una forte passione per i minorenni, oppure come il vostro nome possa finire legato agli scandali di mafia capitale tramite la cooperativa bianca alla Cascina. Siete l'immagine di una chiesa privata, che ogni anno forte del suo bacino di voti si ritrova qui a parlare di valori cristiani e dell'amicizia, ma nesce rinnovata negli affari. E lo dimostrano anche i vostri sponsor, che rimangono sempre gli stessi ogni anno, tra big privati, regioni partecipate dello Stato, sui grossi concessionari ed imprese della galassia di compagnia delle opere. Ne cito alcuni, Finmeccanica, l'azienda dell'ex Presidente Orsi vicino a CL arrestato, Intesa San Paolo, una delle banche più aiutate dal decreto IMU Banca Italia, una banca che ama la guerra investendo milioni in armi. Eni, costruisce danni sulla corruzione internazionale e la politica estera di tutti i governi che si sono succeduti, di destra, di sinistra, di centro. Nestlé, una multinazionale che ha causato disastri e drammi sociali in tutto il mondo, dalle infrazioni legate alla commercializzazione del latte materno, al cibo contaminato venduto in Venezuela, all'uso non dichiarato di prodotti transgenici, fino alle denunce per schiavitù e manodopera minorile. L'ottomatica, in un Paese dove la malattia del gioco d'azzardo è considerata una delle patologie emergenti a causa della crisi, direi che ringrazia per i condoni fiscali dati da questo Governo. Per noi, signori, la politica è un'altra cosa. Un politico deve essere onesto e deve avere il coraggio di dire la verità, il coraggio di dire sì, il coraggio di dire no, indipendentemente da quali siano i propri tornaconti personali. Ho iniziato a fare politica perché ho capito che finché ci sono sistemi come questi, come il vostro, i nostri talenti, i nostri veri talenti guadagneranno un decimo di una velina o un centesimo di un calciatore se non si ammanicheranno con le persone giuste. Io, signori, non ci sto e sono venuto qui in un terreno scomodo per me a dirvele e a farvi qualche domanda. Cos'è comunione e liberazione? Cosa rappresenta per la politica italiana? Perché ogni anno, ministri, presidente del Consiglio, sentono la necessità di chiedere la benedizione venendo in pellegrinaggio a Rimini come i re facevano con i papi? Quando la Chiesa caccerà i mercanti dal Tempio? Il Movimento 5 Stelle non ha bisogno di benedizioni, ma solo di risposte. Grazie.